13 agosto 2020, giovedì, bentornati su Ciper TV Wooden Cross, il volo di oggi, 17 minuti un-wrap 12 single leg V-up, 12 GHD hip extension 200 metri di single dumbbell farmer's carry 16 single leg V-up, 16 GHD hip extension alti 200 metri di single dumbbell farmer's carry poi 20 single leg V-ups, 20 GHD hip extension e 200 metri di single dumbbell farmer's carry ma non è finito, continuate ad aggiungere 4 ripetizioni per ogni round pesi e scalature sulla grafica è tutto per oggi ci vediamo domani per l'ultimo quad della settimana su Ciper TV